Ciak si gira, oggi e domani Sturno diventa il set cinematografico per il videoclip degli SPAC Il Silenzio, il gruppo dei fratelli Grella che ha scelto l'Irpinia per girare le origini tra le mura della casa paterna e tra i vicoli del paese della loro infanzia. Un duo che con talento e determinazione ha conquistato il palco insieme a Vasco Rossi e ha duettato con Lucio Dalla. Sarà Luigi, autore e voce del duo, a lanciarsi dal balcone di casa. Abbiamo cercato di riunire gran parte dei nostri fans e persone molto molto care di Sturno e non solo che avessero avuto voglia di partecipare alle immagini di questo videoclip. E alle 10.30 di domenica mattina nel videoclip ci sarà questo lancio dal balcone di casa mia, casa paterna, dei fratelli Grella, io e mio fratello Feliciano. E sì, vediamo che cosa succede, insomma, venite a prendermi perché sennò cado a terra. Grazie. 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 Grazie.